È un segnale significativo, l'abbiamo voluto fortemente ad essere qui a presentare un po' lo stato della legislazione e farlo all'Aquila ha un significato importante, fondamentale, significa che le istituzioni sono vicine, vogliono essere qui. Ricordo che la Camera dei Deputati ha versato più di 160 milioni di euro di risparmi nel fondo per le zone terremotate e stiamo cercando di fare un percorso insieme alle regioni in difficoltà che hanno avuto grandi problemi e dobbiamo essere vicini e continuare su questa strada il più velocemente possibile e il meglio possibile. Mi sento di rassicurare nel senso che so che tutto il Governo e il Parlamento su questo non molleranno e anche se ci sono tante problematiche sicuramente questa ha una priorità assoluta. Sulla Siuocci non credo che ci sia nessuna emergenza a migrazione in questo momento quindi 40 persone a bordo di una nave non possono essere un problema per un Paese senza dubbio l'Europa deve esserci vicina, ci vuole forte condivisione europea e spero che gli Stati si facciano avanti il prima possibile.